La Globo Info Service Campli perde la sua imbattibilità e lo fa nella maniera più fragorosa e inaspettata possibile. Il quintetto di coach Millina esce dalla trasferta sul parquet della Malloni Porto Sant'Elpidio con un passivo molto pesante di meno 29,85 e 56. Decisamente una domenica no per i farnesi mai in partita ed estremamente imprecisi in attacco come dimostra la percentuale dal campo da 2, 39% per via di un 14 su 36 e soprattutto il dato della lunga distanza, 3 su 23, 13%. Numeri generati da una serata storta al tiro ma anche dalla buona interpretazione difensiva del quintetto Elpidiense sceso in campo con la giusta rabbia poiché reduce da due sconfitte consecutive. Di tutt'altro tenore le percentuali della Malloni, 54% da 2 e 43% da 3 che si sono tradotte in un primo quarto da 27 a 16 e in un secondo da 22 a 15. All'intervallo lungo si va sul 49 a 31, un meno 18 che è una montagna troppo alta da scalare per la Globo Info Service che nel terzo quarto non riesce a reagire e anzi nell'ultima frazione Porto Sant'Elpidio prende il largo e chiude sull'85 e 56. Per i farnesi doppia cifra per Petrucci 15 con 8 su 9 liberi, Gatti 15 ma con 4 su 12 dal campo e 12 di Serafini con 5 su 12. Tra i marchigiani in 5 vanno in doppia cifra, spiccano i 18 di Cacace e i 17 di Cernivani. Sotto le plance Torresi Arpiona 12 rimbalzi. Si ricompatta così l'alta classifica del girone D perché con Campli perde l'imbattibilità anche Biceglie che crolla a Matera. In vetta Pugliesi agganciati da Montegranaro mentre la Globo Info Service viene appaiata da Sansevero. In attesa del recupero con Senigallia che può valere potenzialmente il primato in coabitazione, per la squadra di Millina è lecito attendersi una gara di riscatto quando domenica prossima al Palaborgognoni ci sarà il derby con la Weir Ortona.